grazie caramezza dopo poche minuta ballerà il sindaco signore ah no caramezza ah no 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 ma è piena territo a me approva prova dei microfone dopo poche minuta poi c'è arrivò ballerà il sindaco signore città Che stavo dicendo, caramese? Ringraziamo la delegazione di Chivinan Cinesi e Tanasine! Cos'è? Arrivavo, cos'è? Prova dei microbole! Da poche minuti andrà il centro che si trovano! Cos'è, arrivavo, cos'è? Chi siamo? Prova! Prova! Cos'è, arrivavo! Prova dei microbole! Cittadine! Da poche minuti il sindaco Sinoro sarà con voi! Grazie! Adesso è con voi il sindaco Sinoro! Cittadine! Un applauso al sindaco Sinoro! Cittadine! 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 Casa Popolare per tutti! Casa Popolare per tutti! Mi chiedete, mi chiamate, non vado a Strasbourg, c'è qualcuno a Centarias? Allora, mi chiamo, non vado a Strasbourg! Per Montello, per Montello periodistico, già inizio! E' sempre salve lo zucchero in inverno! Mi chiamano, la Casa Popolare a Montello! Inverno è bello zucchero! Casa Popolare per tutti! L'unico che portava! E' la casa dice che hanno quattro malone! Mi chiamano, sono loro sull'eserlo! Non ci credono a queste persone! Fustice! Fustice di buono! Qualcuno l'hanno si è troppo comune! Tu! Non vuoi trovare? Io non parlo in giù! Parlo in giù! E' che appunto? Scrivevi a me! Come si sta parlo in giù! Asarà! Bravone! Ciao! Ciao! Sia Todi! Chi fa la camera plumata? Ancora no! Sì! Mi parlo di spesso! Sia Todi! Quando arrivo di io! Asarà! Asarà! Sia Todi! Sia Todi! Sia Todi! Sia Todi! Ci sono cose segnali! Ci potremmo dire in giù? Ci potremmo dire in giù? Ci potremmo dire forse di Rupalemo! Carameco! Si è arrivato! Non si è proprio! Se no la vi si è proprio dretta! Si è arrivato ogni volta di nuovo! Mi è anche io Carameco! All'inizio di nuovo! Mi è anche io Carameco! L'Ubisidente di nuovo! Mi è anche io Carameco! Mi è anche io Carameco! A dignità Carameco! Non è un autogeno Carameco! Appena arrivato a spesso! Che cosa vuole Rupalemo Carameco? Noi abbiamo la città e la squadra che si mette! Che amministrazione abbiamo a Palermo? D C! D C! Posso mettere Rupalemo in serie? C! Tra due anni in serie? D D C! Q B Z! Carameco! E poi ho detto una cosa a Carameco! che è venuta che si mescola la menice! Per usare la scatola non mi serve! E non ti ripaccio a chi parla e chi parla! Mi dici una cosa a Dio Sintaglio a proposito di amministrazione che l'ho fatto dalla sindacchessa Pucci e la messe di Pucci e la messe di Pucci e la cosa di chiare è in proposito! Eccolo! Di chi si potremmo parlare? E qui Pannavo che cazzo è questa mescina? Una femmina! Una donna che deve rattare con le rose, con i fiori! Carameco! Ma non mi fanno i carameco! E che non mi fanno la mia d'areggia carameco? Perché legna con legna fanno il centello! E non mi fanno carameco! E' questa era la buccietta carameco! Che direi giustamente che fai! Ci telefonano e dice Guardi qui è l'azienda abbiamo la fangiatura occupata! Si dice ma il bambino l'ha fatto le rotte! Guardi siamo senza luce! Si ma il bambino l'ha fatto le rotte! Le rotte no! Le rotte no! Ma le abricidea e lo guarda! Vabbè! La faccio il calameco! Signor sindaco non c'è una cosa che sape che la notizia è mai stata la notizia di fuori! Io non mi fanno il rabano carameco! Se sbarlo a Palermo via carameco! Non volevo andare a Roma come sindaco! se no caro amico non puoi essere perché io sono il sindaco di Palermo appartengo con i palermetani e devo essere il sindaco del Palermo e allora a Roma caro amico ah che città grande scusalo che non è arrivata in stazione arrivato, non è arrivato, non è arrivato in palermo, non è arrivato in palermo Roma grande caro amico, io portavo il pezzo di San Pietro nooo, chi è che c'erano me la dire che c'erano caro amico ma leone, ma anche te come leone, migliaia caro amico si, è tutto al contrario come? è tutto al contrario e tu perché non vuoi cercare? e lei perché non noi stipendiamo, non lascio le cose caro amico a casa popola ti viene andato a te, non so bello a Roma caro amico, io portavo il domenico, la terza di San Pietro, c'erano Papa poi lo facevamo la messa, poi lì stavamo, 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 lì stavamo anche lì stavamo conoltre nazionale una volta c'era un guai da squizzi, una chissate a me e poi parla con me e me lo.. c'erano parro con te cosa? ma come me non c'erano, io non c'erano c'erano la stavo tanto ora mi piace il volo chi c'è? E c'è? non lo so sbagliato io volevo arrivare a Roma un amico un amico e chiamiamo da sotto che corridoio caro amico che dico un chilometro caro amico che dico un chilometro caro amico che dico un amico caro amico e arrivi al suo cappello ero già io andavo a mettere a arrivare il papà il papà si è privato e metti il papà vuoi te? io ho usato una cosa nuova e se c'è in Palermo e c'è la stessa stessa non mi metterà a piccola e non è giusto vicino a una saletta sotto una poitona c'è di vino oh papà c'è bella vabbè su un certo punto ho messo i cesserò io ho chiamato i picchi fatti sui due o tu te ne prendi in Palermo o io me ne prendi in Polonia perchè se tu ti metti in testa c'è il calendario per San Pedro per costruire casa Polare e tu sbattisci con il sommolore capisci? e nel giorno pensieri poi c'è quella con un residente se no tra il ruolo e non poteva queste caracate ora siccome io sono un Senaco veramente del popolo e sogno buono caro amico perchè ora questo nuovo Senaco che è uscito dalla Puccia è insalato caro amico uomo ma sono insalato giustamente io alla Puccia da una signorina ho scritto una canzone bella parola la sindaco ha chiesto l'ho fatta musicare da due maestre veramente di musica e poi sei già tu o Ernesto e poi sei già tu ma sempre canto mi raccomando mi raccomando voi ci fanno fare i parole del segnale parola di tutto salato parola mia di seroro per la sindacchessa Puccia per la parola di tutto a posto guardiamo 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 questa mia cara sindacchessa ve' già provato a mettere la giunta a buttare l'altro la mettere cà la mettere cà la mettere cà è proprio un alentone sabbia nella cà seconda scrofala buona parola ho fatto la parola e io che sono dottoressa mi sanno pure nella testa mi sanno pure nella testa mi sbagliare questa finessa una rapa finessa Io torno all'ospettale e mi dico a me di non uscire più dal mio cabinetto. Bella parola. Mi siete roma, mi siete roma, ma sono un pescoare e mica per pensare. Io che sto volendo, lo pesare coletto, lo pesare coletto. Mi fa ogni giorno che tempo e che mando e mando il consiglio di mangiare. Io che sto volendo, lo pesare coletto, lo pesare coletto. Grazie. 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 Grazie.